Chiara Ferragni mangia gli spaghetti e bebevi o commenta Se Chiara Ferragni fa una faccia buffa mentre mangia gli spaghetti, bebevi o non può fare a meno di commentare, la celeberrima campionessa di scherma e molto amica della fashion blogger, che l'aveva invitata alla sua festa di compleanno. Chiara Ferragni e bebevi o amicizia anche su social. Un'amicizia visibile anche su social, stiamo parlando di Chiara Ferragni e bebevi o, due biondissime piuttosto frizzanti, uniti dal gusto e dalla passione per la moda. Che cos'è successo di recente? Riportiamo i divertentissimi fatti accaduti su Instagram. Come sempre, la fashion blogger numero al mondo ha documentato uno dei suoi pranzi di famiglia, Chiara, infatti, si trova a Milano e si è concessa un buon pranzetto insieme alla mamma, a Francesca, una delle sue sorelline, e a due ragazzi della TBS CREV. Il primo piatto scelto dall'influencer di Cremona, neanche a chiederlo, è a base di spaghetti anche se questa volta, a differenza delle recenti portate richieste al ristorante, si tratta di un condimento in bianco a base di vongole e frutti di mare. Non è finita qui, visto che, a quanto pare, la Ferragni è più allegra e spensierata del solito e, per divertire i commensali e tutti i suoi fan, improvvisa una serie di facce buffe mentre mangia la pasta. La sorella alla Immortala proprio così e la foto, nel giro di poco tempo, finisce subito su Instagram e oltre 10 milioni di follower possono vedere il pranzo all'insegna delle smorfi di Chiara. Tra tutti i suoi fan, però, ce n'è una davvero particolare, una sua amica, che la fashion blogger ha invitato come una degli ospiti esclusivi al suo trentesimo compleanno. Di chi stiamo parlando? La ragazza in questione è Bebe Viu, la giovanissima campionessa di scherma che ha conquistato l'oro e tutti noi alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Chiara e Bebe, due ragazze super fashion. Per la festa privata del suo compleanno, Chiara Ferragni ha mandato il suo sfavillante invito pop a Bebe Viu, la sua amica non poteva proprio mancare a un evento così importante per lei. E la campionessa non si fa certo attendere e raggiunge la location esclusiva della festa della Ferragni, le foto insieme sono subito state condivise su Instagram. Gli outfit? Sono glamour e assolutamente super fashion, visto che le due biondine condividono una grandissima passione per la moda. Un'altra conferma? Per lo spettacolo On Ice di Intimissimi a Legend of Beauty sia chiara che Bebe sono due delle stelle che hanno brillato nel parterre, la Ferragni è stata la costume designer ufficiale e la Vio una dei grandi ospiti del mondo dello sport. Le due, però, dimostrano la loro amicizia e uno splendido gusto che dona sensualità ad entrambe con un capo di lingerie sapientemente mostrato ai flash dei fotografi. Si tratta di un top di pizzo nero di Intimissimi, che entrambe hanno scelto di indossare per la serata di gala su ghiaccio. Grazie per la visione!